Siccome noi abbiamo un problema di crescita e tutti debbono collaborare alla crescita, ricordiamo al Presidente Monti che il contributo che le banche possono dare non è di poco conto. Aggiungo anche che nella nota di ieri a borse chiuse ponevamo un interrogativo su Unicredit. Mi sembra che alla luce di quello che sta accadendo oggi, questo interrogativo che rivolgiamo al Ministro del Tesoro e anche a chi ha il potere della vigilanza, richieda delle risposte autorevoli e significative. Grazie.